Sei appassionato di fai da te, videogiochi, cucina, viaggi o altro? Pensa a come sarebbe bello aprire un canale YouTube dedicato a questa passione e magari guadagnare anche da questa passione. Dall'esterno può sembrare facile, sembra che tanti YouTuber semplicemente si registrano mentre fanno quello che gli piace e ottengono milioni di visualizzazioni e quindi anche un bel guadagno. Beh, la verità è che non è così semplice e non tutti possono farlo. Oggi ti spiego come far funzionare un progetto simile e quali sono le quattro regole fondamentali per creare un canale YouTube attorno alla tua passione che sia efficace, di successo, fonte di guadagno e che non fallisca miseramente. Ovviamente la tua passione è qualcosa che ti piace, magari ti piace giocare ai videogiochi, cucinare piatti messicani, disegnare, dipingere, ma quello che dobbiamo capire è se quello che fai tu è piacevole per gli altri da guardare. Se registri semplicemente quello che fai tu, pensa perché qualcun altro dovrebbe guardarlo. Perché qualcuno che non conosco dovrebbe guardare me che gioco a un videogioco, oppure guardare me che dipingo. Spesso la pure e semplice registrazione di ciò che fai non è sufficiente, devi metterci del tuo e creare qualcosa di interessante attorno a quello che fai. Ad esempio se ci fai caso, spesso chi pubblica gameplay di videogiochi inserisce le riprese di se stesso mentre gioca, mentre commenta e reagisce al videogioco. Diventa un contenuto di intrattenimento perché più del gioco mi interessa, mi diverte guardare le reazioni dello youtuber. Oppure chi cucina un piatto non usa una fotocamera scadente per riprendere una cucina in disordine, ma cura l'inquadratura, scegli attentamente i colori dei piatti perché siano in contrasto con quelli del cibo, gira dei dettagli degli ingredienti, impiatta con stile, fa sì che il piatto cucinato diventi un'opera d'arte, che sia affascinante da guardare e faccia venire la culina in bocca. A te ovviamente per divertirti basta eseguire l'azione perché è ciò che ti appassiona, ma per chi guarda devi inserire un livello ulteriore nel video finale per rendere interessante non tanto l'azione in sé, ma le riprese dell'azione in sé. Altrimenti finisce che io spettatore preferisco uscire, comprare dei pennelli e dipingere da sola piuttosto che guardare te che dipingi. Devi capire quale tipo di livello ulteriore puoi aggiungere ai tuoi video perché diventino unici e piacevoli. Per farti qualche esempio potresti aggiungere un livello di ironia, potresti aggiungere un bel montaggio, creare una storia attorno a ciò che fai, oppure potresti usare il prossimo consiglio che è quello che mi piace di più. Spesso il livello che puoi aggiungere alle riprese della tua passione è un livello di utilità, ovvero puoi rendere utile, didattico e informativo il tuo video. Se dipingi una natura morta e mi spieghi che colori usi, che tecniche usi, come riproporre lo stesso effetto, posso guardarti per imparare e replicare la stessa cosa. Se mi spieghi come si cucina una ricetta mentre la fai, posso imparare e replicarla per offrirla a cena ai miei parenti, ovvero trago un'utilità da ciò che guardo e questa è una delle motivazioni più forti che spinge le persone a guardare i tuoi video. Guardare te che giochi ai videogiochi non mi dà nessun vantaggio, ma se mentre giochi mi spieghi come hai fatto a battere il boss finale, posso farlo anch'io e finire finalmente il gioco. Più o meno inconsciamente tutte le persone sono su youtube per ottenere un vantaggio personale, non certo per fare un favore a te o regalarti il successo. Devi capire quale tipo di vantaggio puoi dare ai tuoi utenti sfruttando la tua passione, ovvero divertendoti. Scrivimi nei commenti qual è la tua passione su cui stai pensando di aprire un canale o su cui hai già aperto un canale. Noi continuiamo e vediamo come dargli il successo che merita. Se apri un canale su youtube devi pubblicare costantemente, devi offrire costantemente al tuo pubblico dei contenuti nuovi. Questo significa che la frequenza di pubblicazione non può essere subordinata a quella con cui ti occupi della tua passione. Ad esempio se per passione crei un progetto fai da te ogni tre mesi, non puoi pubblicare solo un video ogni tre mesi sul tuo canale youtube, sarebbe troppo poco. Devi fare in modo di creare nuovi progetti fai da te ogni mese, ogni settimana, altrimenti il tuo canale muore. Se non offri sufficienti contenuti interessanti, le persone andranno a cercarli altrove. Quindi la tua passione deve piegarsi alle esigenze del tuo canale. In un certo senso è come se diventasse un lavoro e potresti un po' sentirti oppresso da quest'obbligo, ma potresti cercare un equilibrio. Dopotutto stiamo sempre parlando di qualcosa che ti piace e ti diverte. Tornando all'esempio precedente, potresti creare un grosso progetto fai da te ogni tre mesi, ma ogni settimana creare un piccolissimo progetto, oppure semplicemente sistemare, modificare, migliorare un progetto che hai già creato in precedenza. Piccole cose che ti divertono e mantengono attivo il canale. Non puoi sperare di mantenere attivo con successo un canale se te ne occupi quando ti va e quando dedichi del tempo alla tua passione. Se vuoi che tante persone guardino i tuoi video dedicati alla tua passione, devi capire come rendere più universale o comunque più ampiamente apprezzata la tua passione. Ti faccio degli esempi banali. Se ti piace dipingere, ma dipingi soltanto ritratti dei membri della tua famiglia, sarebbe riduttivo, avrebbe poco interesse. Se ti piace giocare soltanto a un gioco ormai fuori produzione, sarebbero poche le persone che potrebbero seguirti. Se ti piace viaggiare, ma solo verso mete costosissime e dalle temperature gelide, il tuo pubblico sarebbe limitato. È giusto, come dico sempre, trovare la tua nicchia, ovvero specializzarti in un singolo ambito del tuo settore. Ma ricorda di non esagerare e in qualche modo cercare di andare incontro ai gusti delle persone e stare attento ad esempio agli eventi importanti del tuo settore. Per farti un esempio personale sul mio canale di giochi da tavolo, parlerai soltanto dei giochi che mi piacciono di più e che ho già in collezione. Ma per continuare a mantenere alto l'interesse del mio pubblico, devo anche parlare delle nuove uscite, dei nuovi giochi, altrimenti il pubblico si dirigerebbe verso canali più aggiornati. Se credi di poter seguire questi consigli e rendere il tuo canale una fonte di guadagno, ti consiglio di capire al più presto quale potrebbe essere il modo migliore per guadagnare con il tuo canale. E ti può essere molto utile guardare questo video in cui ti elenco le sette modalità principali con cui gli youtuber guadagnano tramite i propri canali. Alla prossima! Ciao!